Noi come amministrazione e come città diamo il benvenuto e li ringraziamo. Buongiorno a tutti, sono Gualino, sessuale comune di Trino, sono qua oggi a presentarvi e raccontarvi una nuova attività di Trino, c'è il titolare Luca Barcellona che ringraziamo come amministrazione e come città per averci scelto per mettere la sua attività. Buongiorno, sono Gianluca Barcellona e molti di Trino mi conoscono già per altre esperienze lavorative qui in città, sono già titolare di Aromi di Caffè di Molano sul Po, abbiamo scelto Trino per incrementare il nostro servizio a tutti i cittadini che già ci venivano a trovare spesso a Molano sul Po, quindi Trino per noi è una piazza importante, visto quello che sta facendo anche il comune, venite a trovarci, vi aspettiamo. Mi raccomando, non facciamo mancare il nostro supporto a questi ragazzi, perché Trino non è una città, è uno statunale.